Un fallimento l'incontro dei PM con il Cairo. C'è delusione nei genitori di Giulio Regeni a quattro anni e mezzo dall'uccisione del giovane ricercatore italiano in Egitto. L'incontro virtuale di oggi con la procura egiziana è stato fallimentare, sottolineano gli avvocati della famiglia Regeni. Gli egiziani non hanno fornito una sola risposta alla rogatoria italiana, sebbene siano passati ormai 14 mesi dalle richieste dei nostri magistrati. E addirittura si sono permessi di formulare istanze investigative sull'attività di Giulio in Egitto. Per la famiglia del giovane ragazzo si tratta di una posizione offensiva e provocatoria. Nonostante le continue promesse proseguono i legali, non c'è stata da parte egiziana nessuna reale collaborazione, solo depistaggi, silenzi, bugie ed estenuanti rinvii. E ora i genitori di Giulio Regeni chiedono con forza al governo italiano di passare ad azioni politiche e diplomatiche concrete, richiamando l'ambasciatore.